Incidente nel tardo pomeriggio di giovedì 21 maggio sulla direttissima della mandria veneria reale. Una vespa uscita di strada ha terminato la sua corsa contro una mini cooper parcheggiata. In quel momento nella corse opposta stava arrivando una fiat punto che si è ribaltata. La dinamica non è ancora chiara e del valio della polizia locale. Sul posto è sopraggiunta anche la croce verde di Rivoli. Subito soccorso al conducente della vespa che è stato stabilizzato e portato in ospedale con codice giallo, medicato al conducente della punto. A causa dell'incidente disagia il traffico veicolare e lunghe code. Grazie per la visione.